Sono qui con Dora Ruggero, che ha appena completato il corso Remote Project Management, tra l'altro è stata certificata, quindi adesso ha completato l'esame di teoria e consulenza con me e raccogliamo una consulenza su quello che è stato questo percorso. Quindi Dora, ti faccio qualche domanda per sentire cosa ne pensi del percorso, in verità mi hai già detto all'inizio che sei stata contenta e prima di tutto ti chiedo se vuoi presentarti un attimo, dirci che cosa fai, che cosa hai fatto nella tua vita e dopo perché hai scelto di fare il corso Remote Project Management. Ok, innanzitutto grazie Luca, è stato davvero entusiasmante, piacevole seguire il tuo corso perché è molto chiaro, esaustivo e dà comunque un'infarinatura generale sul concetto di Project Management ma anche su altri aspetti come la mentalità, la leadership e tanti altri soft skills che consigli di allenare, sia come Project Manager sia come membro del team. Allora, io sono arrivata al tuo corso perché sono diciamo 14 anni che faccio quasi esclusivamente solo sviluppo software e inizio ad essere un po' stanca nel sbattere ore e ore sul codice, insomma. Sto cercando insomma di fare un avanzamento di carriera ma quantomeno insomma di competenze perché credo che insomma i tempi sono abbastanza maturi per iniziare diciamo a gestire proprio un team. Sì, ma infatti ho letto la tua storia e Dora mi dice hai due figli, giusto? Due bambine, sì. Due bambine, ecco, come me. E che è difficile anche trovare l'equilibrio vita-lavoro e giustamente le donne a volte sono molto meno incentivate nella carriera perché appunto hanno diversi impegni. Però penso che ci sta, infatti quello che vi ho consigliato in questo momento della vita, passare da pura tecnica, conosci la tecnica bene, sei una professionista, però passare al secondo livello che è quello di diventare manager, cioè iniziare a gestire le persone. Quindi passi da un lavoro prettamente tecnico davanti al computer a un lavoro relazionale che è un altro livello, poi si può crescere. Quindi immagino che è per questo che hai preso il corso e ti auguro una buona carriera anche su questo. Sicuramente una skin in più che è molto ricercata. Però mi hai detto all'inizio, quindi volevo richiederti adesso, che cosa in particolare ti è piaciuto del corso? Sei delle lezioni, così che ricordi? Allora, a me è piaciuto tantissimo il concetto dei quattro quadranti, quando hai spiegato, diciamo, nel dettaglio come organizzare il tuo Google Calendar, per me è stata davvero bellissima, cioè sto cercando di ripercuoterlo anche nella mia quotidianità. Soprattutto, diciamo, il concetto dell'importante ma non è urgente che si tende sempre a procrastinare e che quindi non porta valore aggiunto nella nostra vita e neanche nella nostra carriera. Le competenze del project manager e quelli in cui utili il libro e tante altre cose che hai consigliato che sono tutte, diciamo, soft skill che possono essere staccate e, diciamo, potenziate seguendo corsi, leggendo libri, eccetera, come la scrittura veloce, come la capacità di sintesi, la capacità di relazionarsi, eccetera. Quindi mi fa piacere che hai dato molta importanza a queste soft skill che poi fanno di una persona un senior, che fanno di una persona un project manager e via scarando. È fondamentale, le persone ne le sottovalutano, però le soft skill sono fondamentali, sapere anche scrivere in maniera sintetica, no, una delle tante. Ecco, è importante per un manager, è importante non scrivere qui papiri di cose che poi hanno un contenuto informativo minimo, la gestione in quattro quadranti, quello che mi permette tuttora anche a me di fare tutte le cose importanti che stiamo facendo e poi va bene applicata anche nel team. Comunque vedo che sei veramente una studentessa top, perché hai preso anche il libro di Scrum, quindi sei veramente... Mi piace avere studenti come te così, come si dice, focalizzati, impegnati nelle cose che vanno a fondo, completano le cose che hanno... Ma non mi piace, diciamo, studiare con superficialità e poi dire in giro, ok, so che cos'è lo Scrum, se poi non lo so. Cioè mi piace anche, magari, si creassero delle conversazioni del genere al bar, saper spiegare anche al bar cos'è lo Scrum, non per sentito dire. Esatto, esatto. Già con quel libro lì comunque vai molto, molto a fondo. Quindi le potenzialità ci sono tutte. Senti, se dovessi chiederti, quindi, sei soddisfatta di detto di sì, lo consiglieresti a... A chi lo consiglieresti? Ad esempio, lo consiglieresti a tuoi colleghi, a magari clienti, collaboratori, quanto da una... Qualcuno che magari vuole diventare, vuole iniziare a gestire efficacemente un team da remoto, vuole gestire il suo stesso lavoro magari da remoto, anche? Ok, allora diciamo che per me è stato facile calarlo nella mia realtà, quale lo sviluppo software. Quindi lo consiglierei a tutti, diciamo, i miei colleghi che hanno più o meno delle ambizioni come le mie. Ecco, faccio un po' più difficoltà, magari, a consigliarlo a chi appartiene in altri ambienti, ma semplicemente perché io non li conosco e quindi non saprei calare queste realtà nel loro contesto. Però potrebbero tornare utili anche a loro, lo è, non è assolutamente ditto. Infatti noi abbiamo comunque anche clienti che hanno business fisici, cioè vendono forniture per altre aziende materiali, quindi hanno applicato alcuni dei concetti che sono compresi nel corso. Comunque mi fa piacere che ti sia piaciuto, sei arrivato in fondo, tra l'altro super esame, quindi ottimo. mi hai segnalato anche, mi hai segnalato delle piccole cosette che abbiamo messo a posto e a posto così direi. Grazie della tua testimonianza. Grazie a te Luca.